IL FAMI E TRADITORE LA TESTA CONTRO UNA PIETRA E' SUPPOROSO? ERA VIGILE IL NOSTRO ARRIVO Bravo, bravo, quasi meglio di quando te lo fai butta al culo A te non ti ha interpellato nessuno? I due stronzi stavano a mettere le mani addosso a mia sorella Maffiamo veloce, quei due li devono beccare Mia sorella c'ha solo 15 anni Meglio che te l'accompagni a casa, dai Sei tu Benny? Perché tu chi sei? Sono un amico, mi manda Carmelo E che vuoi? Possiamo parlare? Carmelo, come sta? Bene E mi ha parlato molto bene di te Mi ha detto che mi puoi aiutare Fermo! Non ti muovere! Sei buono! Fermo! Sei buono! A che ora sarebbe questo partito stasera? Alle nove, come al solito Dai, vieni che giochiamo contro i magistrati PS contro PN La madre di il fatto da partito? Sì Signorina, deve seguirci in caserma Perché in caserma? Ma che è successo? Sono stato io a uccidere Stefano Riccardo Cinzia aveva deciso di scappare con lui Non devi dargli il tempo di reagire Intesi? Ricevuto Pronto al fuoco Ok, siamo a bordo Sono stata informata che voi trattenete qui un uomo di nome Pietro Pironi Vorrei conferire su di lui con il comandante Avviso il colonnello Se intanto vuole accomodarsi nel circolo ufficiale Oh no, la ringrazio, preferisco aspettare qui In piedi? Sono sicura che l'attesa sarà breve Vado immediatamente Buon viaggio? Sì Vuoi qualcosa da mangiare? O forse vuoi fare un riposino, eh? No, un caffè Ti provare un caffè? No Che ne dite del mio sugo? Sei una naga, una solida, è bravissima È un sugo pronto? È un sugo pronto? No È un sugo pronto